bella a tutti ragazzi e oggi siamo su wow cosa bella non so cosa succede e oggi andiamo a reagire con il slime, slime praticamente, il mio youtube preferito anche il make control 3 make control 3 bene no 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 non ci parte da lei ci parte da lo G ciao ragazzi allora ragazzi oggi siamo su minecraft ma non è minecraft normale infatti questo è minecraft che stavo a dire? mi sono di... ah si minecraft allora ragazzi non è il minecraft normale ma... non è il minecraft giù che cosa hai visto? vieni 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 stavo a scavò vieni con la scena è il mace che cosa? qualcosa ho mai visto? ferro 담mi il piccone per me prima di tutto evitare di crepare come dei cazzoni oh mio dio un cracker ragazzi tenete gli occhi aperti perché le cose sono iniziate un cracker e non c'è bravo non stanno all'aprire un cracker non dobbiamo morire non è una serie hard core però dobbiamo cercare di renderla quanto più realistica possibile quindi non bisogna morire a ruota sono spacciato un ragno uno scheletro Mario è stato spaurosissimo qua ragà venite qua c'è una roba dove? c'è un albero secco non è normale sono scioccato sono scioccato aspettate un'idea un'idea che dite se facciamo un trip? ma che sta succedendo? un minuto da due minuti è morto lion allora ragazzi oddio santo Anna mi hai fatto sbagliare Anna? Anna io non mi aspettavo che la cosa andasse così cioè io pensavo che succederà qualcosa di strano però basta passi le due giornate giocando a Minecraft Minecraft si quello che è hai detto il gente che rieradica? che quello sono vi è qua diciamo me fammelo annusare vi è qua che cazzo si non ce la faccio raga mi sto cagando adosso scusate la parola basta allora se vuoi rivedere Anna devi chiudere il canale ma cosa c'è questo? qua scappo lo vedete questo? puntino giallo sono morta va bene è morta allora che è per me? no non sto scrittando non vi voglio dire ma gioco con Anna perché lei ha GhostArts e io sono uno dei amici di Anna ho iscritto praticamente Diana andremo a leggere anche ecco young signorino con gli gay buonasera a tutto il pubblico che ci sono madonna che paura che mi ha preso ua ua abbia siamo caduti in Italia in Italia in Italia e riconcivo l'utenzio questo sarà qui ecco qui che mi faccio essere io in altra zona cartoni morti si chiama debbellissimi fai delle amiche amiche allora young bando recension andiamo con la prima domanda che è meglio quali sono le prime due lettere dell'alfabeto a a a a c 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 Abbi, 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 ab Prossima domanda prego Codice fiscale del grande arrostino Ermane Terry Coinarte Nico E andiamo Che campione signori Anche io una volta ero un campione Mi chiamavano Jerry l'invincibile Ero l'invincibile perché andavo in una trattoria E mangiavo sacro Ultima domanda signorina Poi fai a casa con 5.000 lire Sei pronto? Molto bene domanda Nelle poesie fa spesso un rima con cuore E' una trama che non adesso è una trama Porca Oh signor che peccato signori Vediamo cos'era Amore non era impossibile Va bene sarà per la prossima Io vi aspetto domani Sempre qui alla stessa ora Che vuole? Dio vi benedica Cioè per il mattino lo spettacolo Volevo esaltare qualcuno E allora lo faccio io Buonasera Devo Tricinco E andiamo E allora Devo Questo Questo non è Jerry Scotti Ah è di Kenny Scope Ma è non senso Mi sono già iscritto Ok E andiamo E andiamo alla festa E andiamo alla festa Buona notte tutti Buona notte tutti Buona notte tutti Buona notte E andiamo all